Ehi, Sergio, come va? Sempre in forma? Certo. Che c'è qua? Un attimo. Ma è Gordi? È lui. Ehi, Gordi, come stai? È bello, non te riconoscevo quasi. Che ha fatto? Hai detto che c'erano problemi già al porto, giusto? Sì, ma niente di ingestibile. Sì, beh, ho chiesto un po' in giro. Che sto stronzo organizzava uno sciopero. E gli scioperi danneggiano il business. A meno che non li organizzi nulla. Già. Ho pensato che il sindacato ha bisogno di una nuova guida. A te va bene? Ma certo. Bene. Ora, che mi dici dell'occia cosa? Sono qui per questo. Salieri è sopravvissuto. Figlia del mutare! Che succedia? Non lo so ancora. I nostri sono tutti morti, come quelli del ristorante. E basta con questi lagni. Qui stiamo parlando. Che mi dici di che da nulla è da decarlo? L'abbiamo trovato con la testa spaccata come un cocomero. Non ho mai visto nulla di simile. Salieri deve aver capito che l'aveva ciò dito. Maledizione! Così non riesco a ragionare! Scoppierà una guerra! Ed essi da stare, voto! Siamo in guerra da quando è morto Peppone. Ora è alla luce del sole. Cosa vuoi che faccia? Fatti un giro. Avviso ai ragazzi di stare a letto e di stare pronti. Ok. Spargo la voce. Ehi! Cerca solo... Di stare attento. Anche tu, Don Morello. Anche tu, Don Morello.